Dovrebbero essere questi i giorni decisivi per sbloccare il caso dei quattro writer italiani arrestati in India il 2 ottobre dalla polizia di Ahmedabad, con l'accusa di aver imbrattato due carrozze della metropolitana e di essere penetrati in un'area proibita. I giovani artisti italiani Gianluca Cudini, 24 anni, di Tortoreto, Daniele Starinieri, 21 anni, di Spoltore, Sascha Baldo, 29 anni, di Monte San Vito, e Paolo Capecci, 27 anni, di Grottamare. Hanno ottenuto la libertà su cauzione, ma ora sono in attesa di ottenere la libertà su cauzione anche dal tribunale di Ahmedabad. La cauzione richiesta dal tribunale di Mumbai è stata di 40.000 rupie, pari a 500 euro. Il danno inizialmente stimato per aver imbrattato le due carrozze della metropolitana di Ahmedabad è di 50.000 rupie, all'incirca 600 euro. Il giudice ha accettato la libertà su cauzione, richiesta dai legali dei quattro giovani, ma non c'è stato ancora il rilascio. Del caso si stanno occupando gli avvocati di Alba Adriatica, Vito Morena e Francesca Di Matteo, che hanno dichiarato, nonostante il giudice abbia accolto la richiesta di libertà su cauzione, purtroppo questo non significa che i quattro ragazzi verranno immediatamente rilasciati. I legali italiani sono in stretto contatto con i colleghi in India e si tratterà di trovare una soluzione per il rilascio dei giovani anche per l'evento avvenuto nella metropolitana di Ahmedabad. I quattro ragazzi sono in stato di fermo nelle mani della polizia indiana, ma stanno bene di salute, come affermano gli esponenti dell'ambasciata italiana, che spesso vanno a trovarli per sincerarsi sulle loro condizioni e per rassicurare i genitori dei ragazzi con i quali sono in costante contatto. Di giorno in giorno però cresce la preoccupazione delle famiglie e dei giovani che non hanno potuto ancora fare una telefonata, almeno per sentire la voce dei loro congiunti in questo difficile momento.